Lo aiuto. Allora, iniziamo appunto le cinque domande che riguardano questo video e in cui chiamiamo qui la valletta. Sì, 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 vabbè, spieghiamo tutto. Ah, aspettate, la cartellina. Così posso essere una vera pipa balla. Allora, il giallo è? No. E il rosa è? Sì. Allora, la prima domanda è, ti sei riconosciuta in qualcuna delle storie? Ti sei riconosciuto, riconosciuta in qualcuna delle storie? No, forse sì. Per sé no. Un metà in metà? C'è un metà. Allora, passiamo alla seconda domanda. Usciresti con le calze aderenti come la ragazza dell'ultima scena? Sì. Tutti gialli, tutti gialli, no? No. Tutti gialli tranne qualcuna che... Dici che è così. Tutti pochi. La terza. Trovi piacevole avere della scena calda nell'anno? Sì. Questa è che ha vinto il libro. Maxio. Ti sei come mai? Per Milano. Proprio no. Sì, bene. Sì, proprio no. Qualche sì c'è, è vero. Qualche sì c'è. Qualche sì c'è. Ma forse... Forse che Valentina ce l'hai giallo? Sì, ok. No, non capivo. Poi c'è la quarta. Pensi che i giudizi esterni abbiano influenzato le protagoniste delle scenette? La domanda è più veloce. Pensi che i giudizi esterni abbiano influenzato le protagoniste o i protagonisti delle scenette? Lo dettagliamo, eh? Allora, avete visto tutte le scenette? Pensate che un pensiero comune...